Allora il personale di Teramo del Corpo Forestale è presente con 14 stazioni, 7 nell'ambito del parco e 7 fuori e più abbiamo il comando provinciale che è anche un nucleo investigativo interno e attiva nel periodo estivo anche un NOS per lo spegnimento degli incendi boschivi. Il tutto può contare su una forza di circa 70 elementi. Sono questi i numeri del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Teramo che confluirà nel Corpo dei Carabinieri. Stamattina in occasione della visita del procuratore del prefetto il comandante della forestale Gualberto Mancini ha tracciato anche un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno. Sul fronte degli incendi boschivi abbiamo avuto delle diminuzioni e delle segnalazioni abbiamo effettuato. Poi nell'ambito del controllo del territorio dobbiamo registrare un'intensa attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria per quanto riguarda la situazione dei corpi idrici e per i quali abbiamo riferito a più riprese sullo stato di alcuni di essi che sono stati oggetto di ricerche ai fini dell'accertamento di eventuali inquinanti. La realtà in provincia di Teramo che tutto sommato ci sono dei momenti di accumulo e sono soprattutto dei momenti di criticità nei periodi estivi. Nei periodi estivi c'è una diminuzione significativa della portata dei fiumi e quindi una diminuzione della capacità autodepurativa e in concomitanza con la presenza di numerosi turistici nella zona litoranea si creano problemi di di questa natura quindi per quanto riguarda la presenza di inquinanti proprio da colibatterie e cose analoghe e quindi il quadro cambia, peggiora notevolmente nel periodo estivo rispetto a quello invernale. Intensa anche l'attività di controllo per evitare sversamenti da parte delle aziende agricole nelle acque e dei fiumi. Sì, anche quella abbiamo fatto diverse segnalazioni, abbiamo fatto e ce ne sono di diciamo talvolta vengono enfatizzate e talvolta diciamo sono significative. È una pratica che non buona, non corretta che tocca chiedere. Noi chiediamo spesso ai cittadini una mano perché purtroppo la nostra presenza è limitata ed è difficile su 2000 km quadrati che è la provincia di Teramo avere la presenza sempre sul territorio per cui queste pratiche dovremmo cercare di creare movimenti virtuosi affinché diminuiscano e facciano migliorare sensibilmente la qualità delle nostre acque altrimenti come al solito la presenza di bandiere blu un tempo continua sulla costa diminuisce sempre di più e oramai sono sempre meno le stazioni che possono vantare questo riconoscimento.